La Polizia di Stato ha indetto un nuovo concorso, ecco cerchiamo di capire di che cosa si tratta. Sì, il concorso in questione è a 320 posti per allievo vice ispettore e è un concorso che si articolerà in diverse prove, quindi avremo una prova preselettiva, poi alcune prove sia scritte sia diciamo psicoattitudinali e fisiche. La cosa importante è il termine però perché il termine è le 23.59 del 21 gennaio del 2016, quindi chi non l'avesse ancora fatto o intendesse partecipare al concorso può ancora accedere via internet sul sito della Polizia di Stato o su concorso.interni.it e vedere tutto il materiale che serve per presentare la domanda. È anche importante ricordare una nota del Ministero dell'Interno che appunto ha detto ai tutti i candidati che qualora questa procedura online avesse dei problemi soprattutto negli ultimi giorni perché possiamo immaginare che ci saranno molti candidati che ancora si affretteranno a presentare questa domanda, i candidati stessi appunto possono anche spedire raccomandata con ricevuta di ritorno al Ministero dell'Interno e nello specifico al Dipartimento nostro diciamo di Polizia che è in via del Castro Pretorio 5 a Roma. Quindi anche in questo caso verificate bene questo indirizzo comunque via del Castro Pretorio 5 a Roma e poi diciamo mandare raccomandata con ricevuta di ritorno nel momento in cui i candidati stessi non riuscissero a seguire la procedura online. Cerchiamo di capire meglio come funzionerà questa selezione. Sì la selezione effettivamente è molto articolata perché ci sarà una parte preselettiva quindi il 2 di febbraio verranno pubblicati poi i quiz diciamo che sono 5.000 da cui poi verranno tratti quelli oggetto della prova preselettiva in senso proprio. Quindi sono quiz che vanno dal diritto penale al diritto amministrativo al diritto costituzionale. Una volta superata questa prova preselettiva proprio per selezionare un numero congulo di candidati ci sarà la prova scritta a cui saranno ammessi 3.200 candidati che sono praticamente 10 volte quindi 10 volte tanto rispetto a quelli che sono i posti oggetto di concorso. La prova scritta si articolerà in una tema di diritto penale o di diritto processuale penale con attinenze anche al diritto costituzionale quindi i candidati interessati sono vivamente diciamo così invitati a ripassarsi bene o a studiare bene queste materie che saranno oggetto di prova. Dopodiché ci saranno le prove fisiche e psicoattitudinali quindi anche con delle prove di natura fisica tipo la corsa, i 100 metri di corsa piuttosto che le trazioni che ovviamente saranno leggermente differenziate se le persone saranno maschi o femmine. Dopodiché ci sarà il colloquio finale e le persone selezionate verranno appunto avviate al corso di formazione che ha una durata di 18 mesi presso una scuola della Polizia di Stato al termine della quale superata anche questa ennesima prova che si richiede ai candidati le persone verranno immesse nei ruoli della Polizia con la qualifica di vice ispettore in prova.